ci troviamo qui a calvary secondo gran premio val fontana buona il percorso quest'anno è stato rinnovato grazie al lavoro di roberto opportunato e tutto il suo staff siamo qui alla partenza quest'anno la partenza sarà molto più scorrevole molto più veloce per poi portarci in un tratto inedito dove affronteremo un tratto dove andremo lungo il fiume per poi affrontare una una salita molto impegnativa che ci porterà su un nuovo tratto dopodiché affronteremo la zona box e ci porteremo nella seconda parte del percorso dove è stato sfruttato un nuovo campo per permettere un percorso molto più veloce e aggiungere molta più tecnicità a quello che era il percorso dell'anno scorso l'arrivo invece è voluto è stato mantenuto uguale l'anno scorso per permettere un po più di sorpassi e per affrontare se si arrivasse mai involata l'ultimo sprint